ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video è un video dove vi farò vedere degli acquisti che avevo fatto su wish se sa che su wish io comunque ho l'applicazione sul telefono quindi acquisto tramite il telefono l'applicazione di wish le cose arrivano dopo mesi mesi dopo venti mesi arriva la roba purtroppo però comunque visto che è l'unico sito comunque che le cosine sia di trucco le unghie o tante altre cosine che uno vuole prendere costa veramente poco con fronte buy che all'inizio anche col mio ragazzo croberto qui stavamo su buy dopo vai comunque le cose costano leggermente un po di più diciamo e quindi abbiamo optato per wish e quindi quando devo comprare qualcosina così un po pucciosa un po così oppure che ne so qualcosa anche per la casa non deve essere per forza make up insomma se cose qua acquisto su wish perché comunque anche se aspettato mesi tanto io non è che c'ho fuga un conto secondo comprare una roba che mi serve subito allora acquisto su un sito che mi arriva dopo una settimana insomma le cose come su ebay dopo la settimana arriva e invece se possa aspettare posso spendere qualcosina di meno ovviamente acquisto su wish allora adesso vi faccio vedere alcune cose che ho acquistato su wish e poi alla fine tre prodotti che ho acquistato dai cinesi sabato scorso allora incominciamo prima di tutto a farvi vedere questi paio di calzini ancora li devo provare sono molto carini guardate di sailor moon ecco i qua guardate quanti carini e cortini dentro fatti così comunque dei cotone semplice non è che tiene tanto caldo però comunque per me vanno bene lo stesso adesso che può comincia comunque in duri alla primavera si inizia quando sarà anche il periodo da adesso comunque cadessi giorni non sta piove niente comunque ne manco tutto sto freddo vanno più che bene sono rimasta contenta di questi calzini scusatemi i prezzi non mi ricordo perché sono identici alla foto sono fatti veramente benissimo c'è ci sono anche altre sailor io però ho deciso di prendere la principale il personaggio principale che sei lor moon che mi piace tanto e questo era uno quindi questi sono i calzini poi ho acquistato questo rossetto questo qua ho già l'aperto vedete lips già l'ho provato anche bellissimo se questo si chiama shill maui numero 32 della foca l'ur lux questo qua c'era anche altri tipi ovviamente anche peggy molto carino infatti scritto foca l'ur lux non so se pronuncia così praticamente guardate quanto brilla è brillantinato ma è matt ma è bellissimo adesso lo swatcho eccolo qua cioè bellissimo faccio vedere meglio che qui dopo bisogna andare più passate eccolo qua adesso faccio vedere adesso un videocamera non rende tanto ma brilla tantissimo è brillantinato metallizzato ed è opaco bello poi ho acquistato queste due pochette bellissime una è questa guardate quanto è carina c'era anche altri tipi dietro pure così uguale con il cavallo ovviamente questo è come si chiama oddio è a kawaii effetto kawaii insomma diciamo il tessuto è morbido settoso molto molto bello mi è piaciuta questa qui di disegno perché comunque dietro c'è tutto un universo diciamo con questi colori pastello bellissimo e con questa stampa unicornosa di questo cavallo bellissimo adesso ve lo apro dentro è nera bella spaziosa comunque eccola qua queste qui l'ho presa sia per mettermi i trucchi per quando ecco vado da qualche parte un viaggetto oppure quando vado sotto roberto ogni tanto cambio prendo una poi prendo questa poi ne prendo un'altra ogni tanto insomma cambio e mi piace veramente tanto poi ne ho presa un'altra questa è carinissima eccola qua guardate quanto è bella con le orecchiette dovrebbe essere un gatto antoria cioè bella tanto allora voi la vedete proprio blu sparafresciato come si dice ma va su un viola antoria un viola scuro si tende sul blu ma è un viola e voi la vedete proprio blu quindi non vedrete mai il colore realmente com'è e ha questo pompo nero carinissimo montella zip dietro è fatta così è molto carina per cui l'apriamo per questa pure pare bella spaziosa larga insomma molto molto bella mi piace veramente tanto al tatto è una roba fighissima gustavo il po toccarla con le orecchiette carina tanto col pompon bellissima poi da wish le ultime tre cose compreso no scusatemi gli ultimi due cose compreso sono due cover alla prima è questa per il mio samsung s8 plus bellissima questa qui a marina retta e la chiamo con le strisce bianche e strisce e chiamava rinara no col cuore o se no c'era lo stesso effetto però tutti i cuoricini però io ho voluto prendere questa queste qui morbide che sono le migliori bellissima poi l'ultimo acquisto che ho fatto da wish è un'altra cover anche questa stupenda tutta rosa dietro fatta così e già questo gattino ma è una figata perché vedete non so se lo vedete in me è puccioso proprio è una figata perché è proprio morbido guardate potete fa quello che vi pare è fighissimo è anti strip guardate è figo 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 c'è me c'è un pallo un bel po' io con ste robe è bellissima mi piace veramente tanto carinissimo il gatto qua si è un po' sporcato ma vabbè veramente mi era venuta già così però ok e quindi niente queste qui sono le cose che ho acquistato da wish e poi vi fatto più comunque mano a mano che farò gli acquisti su wish ovviamente li vedrete dopo due mesi per esempio perché mi arrivano e dopo due mesi poi dipende alcuni prodotti ti dicono due mesi poi dopo invece ti arriva dopo un mesetto altri anche prima anche prima di un mese comunque poi dipende anche se dice scritto t'arrivano e tra due mesi poi dipende anche da me so cosata tutta comunque vedete e rimane lucido ma opaco e su pare brutto perché comunque mi sono anche sporcata qua così però è bellissimo nell'altra e vi stavo dicendo quindi ecco adesso vedremo quando riuscirò a fare un altro acquisto su wish casomai prenderò un po più di cosine così dopo vi farò vedere un'altra volta quindi farò un altro video sui acquisti su wish poi dai cinesi ho comprato un'altra cover questa bellissima sono arrivate nuove questa mi ricordo è costata 5,90 o 5,40 non mi ricordo io adesso mi sono fissata con queste robe kawaii perché bellissime proprio sempre questa qui dell'unicorno qua avevo già scritto collection c'è bellissima che adesso attualmente indosso questa nel telefono adesso la bella ho levata per farla vedere poi dentro è tutta rosa guardate c'è bellissima peccato che è rimasta dura infatti vedete s8 plus però comunque il telefono protegge molto molto bene qui c'è il volume c'è il tastino eccetera questa qui l'altra cover stupenda poi ho preso uno smaltino della stra questo è il numero 17 allora voi lo vedete molto più chiaro ma invece un po più acceso questi sono il mio smalto sono ultra brillante 12 ml quindi una bella boccetta quelli lunghi nuovi cresciti nuovi c'è anche quelli vecchi a barattolino più piccolo che era fino a qui e in questo qui non ce l'ho come colore che colore è si va sull'aranciato pare un salmone pare un salmone sì che mi mancava come colore siccome c'erano pochi e quindi questo un altro smaltino poi ho comprato questo mascara che c'erano i tre tipi c'era una tutto rosa e l'ho preso lilla e uno blu mi pare non so se c'erano tre o quattro colori ovviamente di mascara differenti sempre la stessa linea con stesso packaging stesso disegno stessa scritta però fanno i dosi diversi insomma tipo questo qui il mascara allungante install and long brush super lente in effetti sempre dell'astra e non vedo l'ora di provarlo pade mascara sono tanti prova bene questo perché allungante quindi adesso dovrebbe allunga bere le ciglia infatti la scovolina così tipo a piramide pare dovrebbe fare il suo lavoro vedremo poi sabato lo proverò quando devo andare prima da roberto che mi trucco vediamo un po come si comporterà e ultima cosa dei cinesi ho comprato questo olio per cuticolo che mi stava affinando della melissa che è allucidante l'ho provato ed è buonissimo alla pesca hanno odore buonissimo posto migoso però è buono comunque e quindi questo molto bene e niente questi qui sono stati tutti i miei acquisti su wish il video era pur che altro su wish dopo ecco sabato mi è capitato come qua scusatemi allora vi stavo dicendo che sì questo video pur che altro era per farvi vedere gli acquisti che ho fatto su wish però siccome ecco sabato dopo mi è capitato di andare dai cinesi e comprare queste tre cosine allora l'ho aggiunto in questo video di wish insomma ho aggiunto tutte e due le cose ascoltate per quanto riguarda questo qui se qualcuno di voi ce l'ha questo qui dell'astra vi stavo dicendo se qualcuno di voi ce l'ha questo qui dell'astra casomai sotto i commenti si può dire se fa il suo lavoro se allunga veramente le ciglia dato che questo qui il mascara allungante se mi fate sapere se qualcuno di voi ce l'ha se fa veramente il suo dovere dopo se il suo dovere non lo dovreste fanno dovrebbe fare non me ne frega c'è un momento uguale però era solo ecco l'informazione per sapere se ecco se fa veramente il suo dovere o meno e niente poi sotto i commenti fatemi sapere anche qual è stato il vostro pezzo presferito anche delle cover non so degli astuccini insomma vedete voi e se il video vi è piaciuto mettete pollice in su io vi lascio un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 Autore dei sovrapposti